mister buonasera buonasera e intanto complimenti per la stagione fatta nel senso che comunque oggi era l'ultima una partita un po' strana nel senso che comunque voi non avevate nulla da chiedere il Frosinone sì però non dipendeva solo da lui e abbiamo visto com'è andata un Frosinone che alla fine l'ha portata a casa però voi avete cercato comunque di uscire a testa alta da questo campionato ma se io credo che oggi l'obiettivo per quanto riguarda la Provercelli era venire qui a onorare comunque un impegno importante di una categoria come la Serie B e a mio avviso l'obiettivo è stato centrato perché siamo venuti qui con una formazione che dall'inizio dell'anno presenta davvero moltissimi giovani in rosa credo che la differenza tra noi e il Frosinone oggi in termini di anni secondo me supera i 50 quindi c'erano 50 anni di differenza in campo tra le due squadre e a mio avviso non era facile venire qui in un ambiente come come quello dello stadio di Frosinone con una squadra che che comunque doveva assolutamente vincere per cercare di di raggiungere il proprio obiettivo io credo che abbiamo fatto la nostra partita cercando di di opporci di cercare di creare dei presupposti per per uscire con un risultato positivo questo è quello che ci rammarica per per quanto riguarda il risultato però credo che la squadra comunque abbia fatto una buona prestazione mister buonasera il campionato dice spal prima per una seconda Frosinone terza sono questi i reali paroli di questa stagione secondo lei ma io dico sempre che alla fine il campo è quello che che mette in evidenza quello che si è sicuramente offerto in questo momento stiamo parlando di tre squadre che a mio avviso meriterebbero tutte e tre di 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 aver centrato l'obiettivo della promozione ne rimane fuori il Frosinone a mio avviso è un dispiacere perché ho molta stima nel nell'allenatore e nel gruppo che che ha a disposizione perché l'ho sempre reputato insieme al Verona uno dei gruppi più forti del della della categoria è normale che la spal quest'anno ha fatto a mio avviso un esploit che forse nessuno si aspettava e ne è rimasta fuori il Frosinone per qualche episodio perché poi stiamo parlando di pochissimi punti però insomma io credo che i playoff saranno sicuramente duri però il Frosinone può giocarsi le sue carte con grande coraggio. Ha detto ai lavori sportivi hanno fanno i complimenti alla Provercelli ma anche a Moreno Longo il cui nome già adesso rimbalza su giornali su siti e questa cosa la lusinga le fa piacere le dà fastidio? No è sicuramente una cosa che mi lusinga perché vuol dire che è stato dato merito comunque al lavoro che abbiamo fatto io credo che il raggiungimento di questa salvezza lo davano davvero in pochissimi proprio per come è formata questa serie B che è formata comunque da società che hanno comunque dei budget decisamente più importanti del nostro hanno dei fattori ambientali che comunque incidono e non un po' sulle sulle partite e soprattutto hanno degli organici esperti e navigati quindi averlo fatto con una squadra giovane secondo me come come lo è stata davvero la nostra è motivo di orgoglio e quindi che l'abbiano notato sicuramente fa molto piacere. Mister buonasera mi collego alla domanda di Roberto. I progetti per il futuro a questo punto? Ma il futuro è normale che dipenderà molto da quello che sarà che sarà il mercato innanzitutto io ringrazio la Provercelli perché mi sta dando l'opportunità di lavorare in un club comunque con una grande storia alle spalle comunque in una categoria prestigiosa come la serie B. Un anno di contratto con la Provercelli io personalmente sono una persona molto ambiziosa quindi spero che qualora non ci fosse l'opportunità di andare a spostare gli obiettivi da un'altra parte magari li possiamo spostare con la nostra società crescendo sempre sulla linea di quello che ci eravamo prefissati magari cercando di ottimizzare tutto quello che possiamo fare.